Gradara è sempre identificata come luogo della vicenda di Francesca e su questo ha costruito un'immagine fortissima con le giornate dedicate a Francesca si fa un salto di qualità si guarda la figura e il mito per quello che è stato interpretato nei secoli e venendo fuori un'immagine di Francesca molto interessante come rappresentante di quelle donne che subiscono violenza che per sfuggire la costruzione fanno un estremo sacrificio è una versione molto profonda, molto importante arricchisce l'immagine iconografica, quella turistica e del mito restituisce alla figura un valore diverso parla il linguaggio della contemporaneità attorno alla figura di Francesca non a caso è stata una fioritura di opere d'arte, rappresentazioni che possono trovare finalmente quel salto di qualità rispetto alla pur fantastica storia del quinto canto dell'inferno trovando appunto una chiave di lettura che parla all'oggi Gradara fa una grande operazione credo che sia importante in queste giornate approfittare di un'occasione dell'alto valore culturale che supera anche un po' lo stereotipo dell'immagine di Gradara e quindi l'arricchisce di uno sguardo diverso molto interessante fra l'immagine di Gradara